L'ideale è che blocchi Mensa al primo giro. Mette così tante RNG, deve bloccare Mensa al primo giro e Mea al secondo. Quindi, o Salta Crepo c'è alcun ruolo rotto o ha fatto tipo... No, perché in due no, in due no, Nico. Ah, in due non c'è RNG? In due no, perché in due lo piglia solo uno l'essenza. E' perché sono quelle cose che non ci pensi, perché sei sempre bloccato Mensa, non so però... Cosa dai per scontare poi? Sì, sì, sì. Una. A volte scompaiono i nemici, vai a capire per quale motivo. Tutti i capitani che da noi... Manti grazie per la morte... Ho bloccato... Niccolò... Eh, Nicolò... Eh, devo purificare io o... Eh, sì. Non devo prendere quattro. Non devo prendere quattro. Mensa, fai una cosa, usa la ulti e prendi nel te di più. Tu, cioè, ce n'hai due giusto, Mensa. Prendi nel due in più te. Sì, prendi nel due in più te. Intanto la bolla non è un problema. Io, Nicco, vengo da te così, sono vicino, se mi dovessi purificare. Vuoi dire che Niccolò la pallina del capitano te lo dico a lontana. Eh, sono qua. Io sono qua. E sono bloccato io. Per fortuna mi ero già avviato alla palla. Ti hai tre secondi, Niccolò. Come tre secondi? Cazzo... Per la palla, per la palla, dico. Ah, per la palla. Nasceranno due soprapposti, ma... Vai. Ok. Quindi... Ora prendo io le ultime. Una. Tu, Mens, pronta a prendere quella al centro? Swappate con lo slug. Sì. Sì. Occhio, non startare subito, Mens che non ho colpi. Zero proprio. Tanto quanto sarà, non sarà... Guarda che ora mi spona quella centrale sua. Dove sono le mie speciali? Dieci. Sono sempre poche, mi sembra. Dai, Mens, piglia la piglia la piglia. Non ci si può fare niente. Cioè, di realtà... Stiamo qua. Mi sembra, non ho manco la pozza. Buona. Vabbè, pochissimo, pochissimo. Non c'è lavoro. Oh, il danno è assurdo, ragazzi. Che è successo? Un danno insane. No, devo rialiare. Danno? Danno, danno? Boom. Easy. Nice. Ciao.